Tu non ci crederai ma a solo pensarci vengono veramente i brividi, io so già perché lo so che mi verrà da piangere, perché sarà inevitabile, perché è stato il periodo più bello della mia vita è stato quello che mi è rimasto impresso per sempre Laura cavolo però così mi emozioni anche tu eh, dai sai cosa che però la voce tanto nasale con queste remosce da racchia però mandali, però mandali, cioè e mandali anche a me, un bacio non vedo l'ora che venga il 12 un bacio non vedo l'ora che venga il 12 12 giugno 2015 l'evento